ciao diciamo che i suoi interventi oggi sono stati particolarmente importanti per portare a casa questa vittoria vorrei che ci raccontassi la parata più difficile quella su plovic si più difficile era su lui perché è andato prima ha rischiato un po già era grosse sul secondo palo rischiato è andato lì per fortuna lui calciato lì che è parato no era per me era partita come ogni settimana mi preparato tutto così non volevo pensare che ero lì per ora sono giocatore di empoli e faccio tutto per per questa squadra quali sono state le difficoltà più grandi che avete trovato quest'oggi a giocare contro la trentina the most difficult in this match is to stay concentrate in the in the game and to make what the cause want so every game is like this every game is difficult and every game we make the best no 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 la traduzione è che tutte le partite si sono difficili in tutte le partite appunto ci lo mettono tutta per dare il meglio di sé mister ha fatto i complimenti parlando in precedenza sul modo di come avete difeso il risultato della parte finale della gara soprattutto questo abbiamo difeso bene in questo game and the defense is is like one thing one all the team we we make good job all the team we try for the for the best and we 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 abbiamo difeso bene tutta la squadra comunque compatta ha cercato di vincere lì 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 ah yeah always always we we think about winning and they always need to to make this so game by game we need to win